Come essere d'accordo con tutti mantenendo le proprie opinioni? In questo video voglio spiegarti come puoi essere d'accordo con tutti mantenendo di fatto le tue opinioni. Una cosa molto interessante è proprio il ricalco. Una persona ti dice, che ne so, tu gli proponi un tuo corso, gli dice, beh, però è costoso questo corso. E tu ricalca, sì, è vero, sono d'accordo con te, il corso è costoso. E in più aggiungerei che però è meglio talvolta spendere un po' di più per un corso che sia utile, che ti dia veramente qualcosa di importante, piuttosto che spendere di meno per un corso che poi alla fine non ti dà niente. Ecco, in questo modo mi sono dimostrato d'accordo con te. Ho utilizzato il fatto che tu mi dici qualcosa, la utilizzo, per far andare la tua mente da un'altra parte. Quindi resto d'accordo di fatto con te, con quello che dici, ma trasformo completamente la tua idea in qualcos'altro. Quindi lo schema è ricalcare sempre, sono d'accordo con te, e non ma o però, e quindi come se fosse un proseguimento, e in più aggiungerei a quello che tu stai dicendo. E li proponi invece quello che tu vuoi, su cui la persona, diciamo, vada a portare la sua attenzione. Quindi non genere disaccordo, non crei una situazione di reattività, però ottieni molto, molto rapidamente il fatto che una persona possa coinvolgersi, possa, diciamo, vedere le cose diversamente entrando nella tua mente. Cioè prima vai nel suo mondo, e poi piano piano porti questa persona nel tuo mondo. Per questo video è tutto, ti ricordo di iscriverti ai miei canali YouTube, Massimo Terramasco, crescita personale con Massimo Terramasco, felicità, benessere, amore, autostima, attivando la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. In più, se vuoi qualcosa in più, se vuoi migliorare, puoi abbonarti al canale. Ci sono diversi livelli di abbonamento, e abbonandoti potrai sicuramente intraprendere un percorso di miglioramento nella seduzione, nell'autostima, nel benessere esistenziale. Seguimi anche sulle pagine Instagram, Massimo Terramasco, e sulle pagine TikTok. Ciao a tutti!